una fiamma al giorno energie del 31 di marzo scegliete la vostra variante rosa gialla stella cenestite chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 31 di marzo per tutte le tre varianti e qualche tensione arriva però siete vicini alla magia qua mi sta dicendo che la vostra energia può sconfiggere guardate un po qua c'è l'amore se ci sono ancora delle tensioni la vostra magia interiore può sconfiggere qualsiasi cosa può guarire ogni ferita può sanare ogni conflitto e l'amore è per voi può cominciare veramente una vera e propria magia ma c'è ancora qualcosa di cui dovete occupare quindi mi raccomando guardatela però affrontate le difficoltà con la magia interiore proprio andando a creare armonia nella propria energia andando a lavorare sulle emozioni come dico sempre perché c'è qualche ferita che va vista prima di iniziare qualche cosa e va diciamo concluso tutto un periodo del passato che a cui ancora siete un pochino ancorati quindi c'è questa ancora qualche qualche cosa qualche ferita qualche contrasto che vi sta ancorando al passato e vi impedisce di passare oltre e sì c'è ancora un po qualcosa di cui vi dovete occupare concretamente c'è ancora una separazione c'è ancora qualche cosa che vi preoccupa c'è ancora diciamo delle divisioni delle discussioni e che vi pre creano appunto delle sofferenze di cui vi dovete occupare ma state appunto avete dentro di voi la possibilità di superare ogni situazione di questo contrasto proprio per creare la vostra magia lasciare al passato lasciando indietro il passato e sì c'è ancora qualcosa che va tagliato mi raccomando ma vi viene mostrato proprio in queste o giornata o nelle giornate diciamo intorno a questa vediamo un po allora qua c'è qualche cosa di sì sì allora qua mi sta dicendo che probabilmente si tratta o di un desiderio di una relazione che ancora non si è mostrata si si manifesterà ci sarà un prima una prima manifestazione che sconvolgerà completamente la vita quindi probabilmente ci sarà un cambio di vita e lo sappiamo che questo periodo ci porta proprio a nuovi inizi attraverso appunto la o la manifestazione di un desiderio o la manifestazione di un progetto a cui avete lavorato o addirittura appunto comincia una relazione che è rimasta a livello energetico per molto tempo o era semplicemente solo un desiderio c'è veramente un cambio vita per chi ha scelto la stella e le stelle dicono che vi stanno proteggendo in questa manifestazione per concludere completamente il passato e vedete che c'è proprio una rottura ma anche proprio una differenza bella grossa con il passato quindi mi raccomando qua siete pronti allora qua mi sta dicendo che avrete un aiuto in tutto questo anche delle persone che vi stanno accanto che vi daranno aiuto appunto in questa situazione di è un po' come se fosse un risveglio una vita nuova e vi aiuteranno proprio a farne tesoro vediamo un po sì sì qua c'è il successo assoluto vediamo un po qua c'è un grande amore un uomo che un maschile diciamo che ha trovato diciamo ha avuto il coraggio di lavorare su di sé e ascoltare quello che l'anima gli sta dicendo è un amore animico questo che il maschile sta riconoscendo e presto appunto si muoverà per materializzarlo eh mamma mia e sì sì qua ci sono nuovi inizi meravigliosi con questa persona lasciatevi alle spalle tutti quelle che possono essere le paure completate dei processi di guarigione perché in realtà la vostra vita sta cambiando totalmente quindi mi raccomando non rallentate non attaccatevi al passato anche qui rilasciate quelle che possono essere le ferite del passato perché qua c'è un qualcosa che si sta manifestando di meraviglioso in amore eh sì qua l'anima parla chiaro vi sta dicendo che cosa ancora vi sta trascinando indietro lavorate combattete ancora quest'ultimo passo diciamo con l'ultima battaglia per vincere la guerra mi raccomando e infatti qua c'è la manifestazione dell'amore quindi siete molto 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 vicini a quello che desiderate grazie a tutti